Sono Luisa e rappresento qual team di Solange. Solange è una matching platform che abilita delle relazioni personali durante l'ora di pranzo. La piattaforma consente alle persone inattive che sono a casa durante l'ora di pranzo di cucinare a favore di persone che sono costrette a pranzare fuori casa perché lavorano nelle vicinanze. Attraverso la piattaforma è possibile offrire, prenotare, pagare e votare pranzi casalinghi cucinati e mangiati a casa delle persone inattive. Sostanzialmente la piattaforma consente di recuperare delle relazioni personali e con un occhio al borsellino. Quindi la piattaforma consente di mettere in contatto questo enorme numero di persone per creare una sorta di progetto di welfare generativo.